La Miternina Calcio affronterà domani al campo comunale di Scoppito il Materica, squadra che viaggia nei piani alti della classifica al secondo posto del podio. Troppo importante però per i giallorossi fare punti in casa per spezzare via l'ultimo posto e l'incubo della retrocessione. Forte anche dei nuovi ingaggi, la squadra di mister Vincenzino Angelone davanti al pubblico amico cercherà l'impresa, non facile ma neanche impossibile. L'Avezzano invece farà visita all'Olimpia agnonese. La squadra di mister Lucarelli arriva a questo impegno esterno dopo la sconfitta casalinga patita con la San Benedettese, prima della classe nel girone F di Serie D. Nell'undici bianco-verde c'è tutta la voglia di un pronto riscatto, obiettivo anche cui far punti per allontanare prima possibile la zona play-out che dista solo qualche punto.